I studenti lo hanno sannato sulla bacheca del suo profilo Facebook, ma anche tanti cittadini comuni, genitori ed insegnanti che hanno dibattuto in queste ore, nelle scorse ore, sulla gestione dell'emergenza maltempo a Bari. I comunicatori e i blogger hanno avuto pane per i loro denti, per slogan e canzoncini che hanno prodotto eventi mediatici che di fatto lo hanno reso più simpatico. Parliamo insomma del sindaco di Bari, Michele Emiliano, che ieri ha spiegato di aver agito attraverso la sua ordinanza di due giorni fa, in vista dell'allertamento, con una decisione preventiva, soprattutto a beneficio dei tanti che quotidianamente raggiungono il capoluogo dalla provincia per studio o per lavoro. Lo abbiamo vissuto anche noi nel piccolo, i disagi ci sono stati. A parte poche eccezioni si è preferito non rischiare anche alla luce di quanto avvenuto a Roma giorni fa e che fa paura pensando a quello che potrà accadere domani quando, come vi dicevo, la perturbazione si ripresenterà. A Bari un velocissimo accenno di neve, sì questo è vero, ma tanta pioggia costante, incessante anche oggi. L'aver vietato la circolazione ai ciclomotori è stato di fatto un bene. L'aver pensato ai senza tetto è stato un gesto di grande responsabilità, anche preventiva. Anche il Petruzzelli stesso, aperto a chi ne ha bisogno, ci ha riportato a concetti che abbiamo sempre immaginato, il teatro palcoscenico della vita, mai come in questi giorni dunque. A posteriori, e magari con molto più sollievo rispetto a chi non si sarebbe mai aspettato di essere appiedato per giorni dal maltempo, pensiamo a regioni come Basilicata, Molise, Labruzzo, Marche, Lazio. Dicevo a posteriori, continuiamo a pensare che l'eccesso di prevenzione è sempre meglio dell'eccesso di superficialità. Che è vero che le previsioni meteorologiche sono ormai precisissime, ma è anche vero che a Roma o queste previsioni non le hanno sapute leggere e la Ministra Cancelleri oggi è ritornata sull'argomento precisando che Alemano sapeva, oppure sono stati superficiali. Allora, bisogna dircelo, se non ci scappa il morto, se si affronta la questione in maniera decisa, forse anche impopolare, è molto meglio. Io credo che questo sia un punto che poi è quello di snodo, che sgombera ogni dubbio. Oggi tutto è tornato alla normalità, seppur per poche ore. Pensate se due giorni fa, con un grado, temperatura insolita per Bari e la pioggia incessante, gli uffici e le scuole fossero stati aperti con la facoltà di poterli raggiungere da parte di impiegati e cittadini, insegnanti e studenti, come è accaduto a Roma nel primo giorno di Città in Tilt, che cosa sarebbe successo? Città in Tilt anche a Bari, tra l'altro come quando già accade quando piove per poche ore. Strade di accesso dalla provincia bloccate dalla neve, pensate ancora. Insomma, il senso è che è troppo facile lamentarsi e giudicare quando poi le cose vanno bene. Difficile decidere ed assumersi responsabilità per tutti, specie poi, come vi dicevo, se tutto fila liscio. Quindi oggettivamente oggi, a posteriori, ripeto, oggi che tutto è tornato alla normalità nella città di Bari, non ci sentiamo affatto di condannare la scelta di Michele Emiliano. Anzi, la continuiamo ad avvallare in pieno.